bentornati nell'angolo di windows stiamo sul double cross forse di questo di oggi nell'ultimo episodio non lo sa c'è una busta qua o sbaglio questa lettera è per me carazzaro vorrei poterti essere d'aiuto in un momento così difficile ma sembra bene avere una nana sacchetto la schede di crociuto è giusto che si stava a lui non c'è quindi potrebbe venire a darci una mano allora sta per succedere di tutto siamo stati autorizzati a passare cosa significa inverti sequenza base operativa rift nell'extraverso non so cosa significhi ma adesso lasciamo stare capo c'è un problema ma davvero qual è il rip gioco i miei rettariani riferiscono che una gente ci sta seguendo e forse questa volta avremo la forza al massimo dai quella secatura salute al massimo sinclair ricocciuta che cosa facciamo voi tre rimanete qui mentre noi prepariamo l'arma avete già farito tutti facendovi sconfiggere meno fateci guadagnare tempo avete quasi finito se l'arma è già connessa al centro sarà attivata fra pochi minuti e la rift sparirà per sempre skip mi ricevi sono arrivato al centro ma la porta dietro di me ora è bloccata sono con ada e la commissaria sospettato x e gli altri hanno preso il controllo dei sistemi di sicurezza sto cercando di carcarli di nuovo ma hanno un acceso legittimo cioè qualcuno che ha autorità la rift sinclair stiamo facendo del nostro meglio per portare i rinforzi ma sei chiusa nel centro con i nemici benissimo sto cercando di prendere controllo della situazione ma non ho l'autorizzazione per sbloccare le porte la direttrice della board è nascosta in un bunker con le sue guardie del corpo come da protocollo il che non ci aiuta sto cercando di risolvere la questione dell'autorizzazione ma ci vorrà mezz'ora vorrebbe essere troppo tardi dovrei disattivare l'arma manualmente non abbiamo molte speranze ma so che gliela farai sola contro un'armata niente rinforzi e la sopravvivenza della rift in gioco però del mio meglio speriamo che ci sia anche rib zara contiamo su di te a per fortuna però ho questo a disposizione allora super schivate scudo è intoccabile questo indicato giunge una barra extra altro indicatore di energia ok poi c'è questo cosa joystick su ah aiuto un attimo che per ora questo poi si vedrà ok cura la cura e adesso no come si fa aiuto no è adrenalinico di nuovo se non si punta perfetto non me lo aspettavo perché non è passato ho permuto il tasto giusti o no perché non passa cosa devo fare per passare a che punto devo premerli un po' di energia qua ok sono passato sono passato dai oh oh che succede mangià ritornerà utile no ho sbagliato aspetta che prendo un po' di energia in più ok ok facciamo aumentare la salute no di nuovo contro di lui io non aspettavo questo momento ma sapevo che sarebbe successo però questa volta non c'è l'energia elettrica ok Oh oh! non resisto meglio morire così che non morire per niente ma faccio quale rip job? ce n'è più di uno mira per tarriani riferiscono che la gente c'è da dove si ricomincia mica ci fa ricominciare da lì no da qui ci tocca ricominciare oh oh Ok. 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 Meno male che questi sono tutti semplici. Ops. Peccato. Peccato. Ops. Aia. Lancia lancia. Ok. 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 ci sono riuscito. ok. 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 piccoloso. Ah. Ho capito cosa devo fare. Nooo. Nooo. Ohia. Ohia. Questo è difficile. Nooo. nonno. Ok. Ohia. Ok. 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 ... Ok. Come si sale? Non riesco a passare oltre. Se vado giù, non serve a niente. Qui si può fare. Ci sono riuscito, dai, dai, dai. Ci sono riuscito. Oh, oh. E adesso? Oh, checkpoint è raggiunto. Me la ricordo, sì. Tremenda questa da da su. Ray, non hai imparato nulla l'ultima volta. Tu non hai imparato nulla, Zara. Hai persino convinto l'altra Zara a proteggere i corrotti della Rift, giusto? No. Sai che hanno chiuso la sala del portale, vero? Insomma, non lo sapevi. Moriremo tutti qui se non fermiamo quell'arma. O quello che è. Se l'unico modo per distruggere la Rift è ben venga. Non ti farò avvicinare. Ho sentito se non tira qualcuno. Ha! Ha! Oh! Ah! 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 Ay! 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 Ok. Scusate e fin qui ci siamo posso anche aspettare si continua a scendere no doveva andare meglio è dura wow non pensavo che sarebbe stato così semplice oh la la pronti per lo scontro finale ecco questo presentatore preferito ancio contro zara sinclair e agente thrift che nell'ultimo episodio della stagione sarà ridotta in bottiglia ti rendi conto che nessuno ci sta guardando? rendi tutto molto noioso cosa c'è di divertente nelle anni antartisi e i miei fan non ci guardano? si tu vuoi distruggere me tu non ti arrenderai bla 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 diamoci una mossa non ho tempo da perdere vai ok finalmente ci siamo ok ci siamo fatto? ah non sei un lottatore bene dammi un po tutto allora io devo chiudere la registrazione quanto prima ecco qua c'è il checkpoint centrostazione allora un po di informazioni qua ci provo nel caso siccome fra pochi minuti devo per forza chiudere ci sarà un altro episodio se riesco in tre minuti a far tutto bene se no niente oppure manuale ah manuale cosa significa inverti sequenza? eh non c'è niente proviamo dai tre minuti a disposizione poi devo per forza chiudere io direi questo ah scusa hai ragione proviamo scopriamo chi sei? Sinclair che spiacevole sorpresa su punto della storia forse dovrei offrirti di collaborare con me scordatelo perché a questo punto della storia non mi dici quali sono i tuoi piani cosa è qualcosa fuori della finestra? ah quello è il nostro nuovo giocattolo in azione divorerà questa stazione e il resto dell'extraverso tra una manciata di minuti non sarebbe possibile senza l'energia del centro e il metacatalizzatore che abbiamo rubato perciò grazie vuoi distruggere l'extraverso non ci pensare nemmeno sono da anni pianifichiamo questo momento avrò la mia vendetta hai pianificato di morire con tutti noi follia pura o pensi di scappare come fai sempre dash il tempo per fuggire e nascondersi è finito basta con i travestimenti eh eh ho indominato era lui aiuto 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 ai 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 ah 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Pensai che non avrebbe detto di no alla loro migliore agente, invece hanno negato. Ok, leggetevi tutto perché io non ho tempo di leggere a gran voce, di registrare la voce. Sì. Sì, sì, sì. Allora, facciamo terminare l'episodio qui, ci rivedremo al prossimo con la parte finale del combattimento.